Proseguendo nel nostro giro per Messina, oggi diamo lo sguardo alla situazione in Viale Libertà, strada sempre molto controllata dai vigili urbani. Intanto notiamo un'edicola che occupa praticamente tutto il marciapiedi, ostacolando il transito dei pedoni, e ci chiediamo perché non la si può trasferire di fronte alla chiesa del Ringo, dando così anche un senso funzionale al buon recupero effettuato in quella zona. Ma di edicole ci occuperemo prossimamente. Percorrendo il lato monte di Viale Libertà, troviamo di tutto e di più in quanto ad occupazioni illegali del suolo e restringimento del marciapiede, dai bar ai negozi di animali ai casalini. Nei pressi della Caronte, poi, si assiste all'insulto collettivo delle regole e del codice. Nonostante che il Comune abbia predisposto ampi spazi gratuiti riservati al parcheggio delle moto, queste ultime invadono più che in altri posti il marciapiede. Che dire di fronte a tante inciviltà? Come previsto, Buzanca e Ferlisi fanno finta di nulla, ma a noi colpisce l'assordante silenzio dell'assessore Mondello e ci chiediamo quale sia il suo ruolo e più in generale, alla luce di quanto avviene a Roma e a Palermo, lui dici perché continua, senza peso, a stare in questa giunta. Grazie. 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 Grazie.